Ciao a tutti e benvenuti a questo decimo video con l'apparecchio per i denti Fast Braces. Siamo verso la conclusione di quello che è l'intervento con l'apparecchio, quindi sono passati ormai più di sei mesi da quando ho cominciato a mettere l'apparecchio, e ci avviciniamo a vedere il risultato finale. Oggi il dentista ha lavorato su un ultimo difetto da correggere, che era che durante l'applicazione dell'apparecchio si era creato un gap quindi un buco tra i denti che doveva essere chiuso e quindi è stata messa di nuovo questo elastico qui per i denti sotto, trasparente, come potete vedere, che serve appunto a far entrare i denti l'uno con l'altro e quindi a correggere quest'ultimo difetto, ma per il resto, come potete vedere, è stato risolto il problema della malocclusione e inoltre i denti sotto adesso sono belli dritti, si sono raddrizzati, quindi diciamo che è un ottimo risultato, in un tempo del tutto ragionevole, perché si parla nel mio caso tra i sei mesi e un anno, comunque quello che conta è il numero di sedute, chiaramente si cerca di fare una seduta ogni due settimane, ma questo non è sempre possibile, perché per esempio avete degli impegni, quindi saltate una settimana, si vacula dopo e così via, e quindi anche se magari invece che i sei mesi sono otto o nove, teoricamente si sarebbe voluto fare in sei mesi andando veramente ogni due settimane. Comunque dicevamo, sono molto soddisfatto dei risultati, vi voglio far vedere anche un altro dettaglio, qua sopra c'è un altro di questi elastici o power chain, questa qui è colorata, come vedete questa qui è grigia, mentre qua sotto questa è trasparente, perché gli elastici colorati sono più forti di quelli trasparenti, anche se sono più visibili, e quindi è stato usato questo elastico qui qua sopra per fare ancora più forza e chiudere bene i denti e correggere la malocclusione. Però anche, diciamo, questi elastici colorati, siccome questo è grigio, che è lo stesso colore dell'apparecchio, fondamentalmente non si nota né questo sopra, né questo sotto. Quindi da questo punto di vista, devo dire che dal lato estetico, anche nel momento in cui si ha l'apparecchio, non solo quando si smette di mettere i denti sono dritti, comunque si mantiene tutto sommato un'immagine positiva. Un'altra cosa che si nota quando ci si avvicina alla fine delle sedute per appunto l'apparecchio per i denti, è che con i denti che si raddrizzano le sedute fanno via via meno male, perché appunto la forza che è necessaria imprimere sui denti si riduce, pensate che siete ormai vicini all'obiettivo, e quindi diciamo che ogni volta, sì, verranno corretti questi piccoli difetti, per esempio questo buco, diciamo nel mio caso, questo gap, ma non tutta la bocca, non si andrà a lavorare su tutta la bocca, e comunque le pressioni esercitate saranno più basse, perché la quantità di correzione necessaria è tutto sommato ridotta. Quindi, mano a mano che si prosegue con l'apparecchio per i denti, le sedute diventano progressivamente meno dolorose, e è anche possibile mangiare meglio, perché una volta che i denti sono dritti, l'esistenza dell'apparecchio, con o senza apparecchio, diciamo che si mangia bene. Quindi aspettatevi che all'inizio magari sarà un po' dura, però poi le cose miglioreranno. E quindi io spero tra poco di potervi far vedere il video del prima e del dopo, anche se ovviamente tenete presente che anche quando si è finito di mettere l'apparecchio, ci sono comunque i riteni, ci sono delle cose da fare, quindi vi terrò aggiornato anche dopo l'apparecchio, ma siamo quasi in conclusione, e siamo agli ultimi refinements, come dice il dentista, cioè all'ultime piccole correzioni. Grazie, come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo, alla prossima!